Questo video riguarda i migliori 3 aspirapolvere senza sacco. Il vincitore della qualità è il Prettikare 200W. Questo aspirapolvere verticale senza fili ha una potente potenza di aspirazione di 20KPA, 180W il potente tubo telescopico dell'aspirapolvere può aspirare detriti grandi e fini. Lo schermo dell'aspirapolvere senza fili senza sacchetto può mostrare chiaramente la carica residua, che è più favorevole ai lavori di pulizia. La scatola della polvere da 1,2 litri può contenere più polvere e spazzatura. La spugna filtrante dell'aspirapolvere senza fili per peli di animali domestici può pulire la polvere minuscola, i rifiuti e i fumi di scarico, in modo che lo scarico dell'aspirapolvere venga pulito silenziosamente. La silenziosa testina di aspirazione senza fili può ruotare di 180 gradi a sinistra e a destra e di 90 gradi su e giù, il che consente all'aspirapolvere verticale di manovrare gli ostacoli wireless e gli spazi ristretti. L'aspirapolvere senza sacco per tappeti senza fili è dotato di luci a LED nella testa per aiutarti a pulire le aree scure. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Rowenta RO2913. L'aspirapolvere a train o Rowenta Swift Power Ciclonic offre risultati di pulizia profonda in un design compatto, per soluzioni di pulizia domestica semplificate. La potenza della tecnologia ciclonica avanzata produce un elevato livello di separazione di aria e polvere, per prestazioni di pulizia elevate con risultati di lunga durata. La spazzola di aspirazione ad alta efficienza e il motore F-TEC ottimizzato per pavimenti duri assicurano un ambiente domestico impeccabile e una scorrevolezza elevata per una pulizia senza sforzo. Scopri tutti i vantaggi di un aspirapolvere senza sacco, progettato per la massima praticità e per risultati di pulizia affidabili giorno dopo giorno. Pensato per adattarsi al tuo stile di vita, il design compatto è maneggevole e ultraleggero, adatto a spazi limitati, e ti offre la massima comodità ogni giorno. Il vincitore del premio è l'Ariete 2759. AndyForce RTV può essere utilizzato come scopa verticale o come pratico aspirapolvere portatile grazie al ricco kit di accessori e accessori in dotazione. La tecnologia ciclonica garantisce la perfetta eliminazione di polveri, acari e batteri dalle superfici di casa. Il filtro EPA assicura il massimo trattenimento delle micropolveri all'interno del serbatoio, ideale per i soggetti allergici a pollini o animali domestici. La spazzola è idonea per la pulizia profonda delle superfici in cotto, marmo, gress porcellanato e ceramica, e ottima anche per i tappeti. La spazzola rotante ad alta efficienza rimuove lo sporco più ostinato e risulta particolarmente indicata per chi ha in casa un animale domestico. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.